Adesso prepariamo i filetti di cernia alla mugnaia stile Bayard. Mettiamo della farina in un piatto, prendiamo il nostro filetto di cernia che andremo a tagliare in tre parti. La cernia deve essere fresca. In un tegame metto uno spruzzo generoso di olio. Non appena il fuoco avrà scaldato il nostro olio andrò ad adagiare all'interno i filetti di cernia infarinati. Il tempo per la preparazione di questo piatto è di circa 6 minuti. I filetti stanno cuocendo in padella e adesso li giro. Vi faccio dorare dall'altra parte. Il filetto di cernia è ottimo per i bambini. Prima di cucinarlo assicuratevi però che non ci sia neanche una risca. Ecco che prepariamo il nostro piatto con un po' di purè e il nostro filetto di cernia. I bambini con questo piatto filetteranno i pappi. Mi raccomando. Bimbi, mangiatelo col cuore.